Arrivano ai sindaci della provincia di Brindisi i dati aggiornati sull'emergenza sanitaria, con i primi cittadini che tramite i loro profili hanno elencato il dettaglio delle persone positive, con un significativo aumento dei casi segnalati. Nel capologo adriatico il sindaco Riccardo Rossi ha fornito i dati aggiornati fino al 31 di ottobre. Gli attuali positivi in città sono 162, così suddivisi per classi di età, 12 con meno di 10 anni, 10 tra gli 11 e 20 anni, 44 tra i 21 e i 40 anni, sono invece 60 dai 41 ai 60 anni e 34 tra i 61 e gli 80, infine 2 con più di 80 anni. A Ceglia Messatica il neosindaco Palmisano comunica che sono 18 i cittadini risultati attualmente positivi al covid-19 in città, un cittadino risulta fuorisede e due sono positivi di lungo termine, tra i positivi due sono sotto i 10 anni, tre nella fascia 10-18, sei tra i 30 e i 50 anni e quattro tra i 79 e i 95 anni, sei cittadini prevalentemente appartenenti agli stessi nuclei familiari sono in isolamento fiduciario. Antonello Denuso, sindaco di Francavilla Fontana, ha invece comunicato che il numero dei concittadini che attualmente risultano positivi è salito a 31, mentre quelli in isolamento fiduciario sono 37. Il sindaco di Mesagna Antonio Mattarelli scrive su Facebook, sulla sua pagina ufficiale, che sono 5 nuovi casi di mesagnesi risultati positivi al covid. Con i casi registrati nei giorni scorsi salgono quindi ad 11 le persone in questo momento positive. Una di queste è ricoverata nell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. A San Michele Salentino il dato segna 17 casi di positività al covid-19, 12 minori e 5 adulti, come comunicato dal sindaco Giovanni Allegrini. Il primo cittadino di Fasano, infine Francesco Zaccaria, comunica che nel territorio comunale sale a 38 il numero totale delle attuali positivi. Inoltre vanno registrati 25 altri concittadini in isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone.